La benedizione invocando l'aiuto del Signore, il Signore ci aiuta però penso che la parte più importante l'abbia fatta la ditta martello, il Signore vabbè però i miracoli non è che deve farli tutti i momenti, però chiediamo il suo aiuto anche perché questa struttura possa davvero funzionare ed essere un volano per l'attività, per la vita di questa nostra zona. La benedizione del Signore scenda su questa struttura, scenda su tutti noi e su tutti coloro che ne useranno, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie.